Il Paradiso delle Signore 7, le anticipazioni dal 14 al 18 novembre, parte 3. Maria è molto giù di morale. Flora, la donna che l'ha sostenuta per tutta la stagione precedente, adesso è contro di lei, è piena di invidia. Fortunatamente potrà contare sul sostegno morale di Vito, che cercherà di starle vicino. Il contabile del Paradiso delle Signore sarà incoraggiato da Armando a fare dei passi verso Maria. Ricordiamo infatti che adesso Ferraris sa benissimo chi è Vito e che è innamorato da sempre della Puglisi. Sappiamo bene che Adelaide ha sempre avuto una grande passione per le piante. Adesso ha individuato una serra a Milano che le piacerebbe comprare. Prima di procedere all'acquisto, però, chiede a Marcello di prendere informazioni. Barbieri vuole sorprendere la Contessa e aiutarla. In fondo, lei è l'unica che ha creduto davvero in lui, senza secondi fini. O almeno, così sembra. Riguardo a Vittorio, deciderà di mettere distanza tra lui e Matilde. Sembra che questa potenziale coppia, ogni volta, faccia un passo avanti e due indietro. Speriamo che il povero Conti, prima o poi, riesca a trovare un po' di stabilità sentimentale. Stefania cercherà di convincere Marco a non lasciare la professione di giornalista. In questo, si farà aiutare da Matilde Friggerio e cercare di resistere alla cattiveria di Umberto dai suoi frutti. Infatti, a Marco, viene fatta un'importante proposta di lavoro.